Buongiorno, sono Nicole Polello, ho 18 anni e abito a Google in provincia di Asti. Ho frequentato il corso trendale operatore del benessere a concettura presso la proformazione di Canelli, conseguendo una qualifica professionale. Parlo a livello basi inglese e alcune nozioni di francese. Durante il terzo anno ho fatto un percorso di stagio suddiviso in due parti. Una prima parte l'ho svolta a Canelli, presso il Stato del Mozart, mentre la seconda parte ho avuto la possibilità di prendere parte al progetto Erasmus e ho lavorato presso l'Ajona Coiffeur a Bordeaux in Francia, in un negozio specializzato in capelli afroamericani. In seguito ho frequentato il corso tecnico della concettura presso l'INP di Alessandra, conseguendo l'ambientazione professionale e il diploma. L'azienda che mi contatterà troverà a me una persona seria, ammettorica e professionale, ma senza fura di uscire dagli schemi e sperimentare cose nuove. Sono indipendente, determinato in ciò che voglio, mi piace collaborare con gli altri, puntuale, obiettiva, precisa nell'esecuzione dei compiti che mi vengono assegnati. I miei interessi sono la scrittura e la lettura, sono una persona curiosa, mi piace conoscere e scoprire nuovi argomenti. Potete contattarvi tramite il mio numero personale e la mia casella e il mio. auguro a tutti una buona giornata e vi vediamoci.